La tematica di cui mi occupo è la stampa 3D e l'utilizzo del calcestruzzo schiumato in questo tipo di produzione. Il materiale che utilizziamo è un materiale che può essere realizzato a densità molto variabili e permette quindi di realizzare dei componenti edilizi caratterizzati da multi densità e quindi multi performance. Questo materiale può essere utilizzato sia per usi strutturali che per usi non strutturali alle più basse densità come ad esempio l'isolamento termico. Attualmente stiamo collaborando con un'azienda locale, Comau, per realizzare un macchinario, un robot per questo tipo di realizzazioni per cui prevediamo di realizzare prossimamente delle prototipazioni di questo tipo di componenti edilizi. Questo tipo di realizzazione sarebbe particolarmente innovativa nel settore edilizio per automatizzare la produzione e quindi rendere il tutto più efficiente, più economico e più rapido nella realizzazione. È possibile realizzare con questa tecnologia sia prodotti prefabbricati che prodotti invece realizzati direttamente in cantiere. Grazie. 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 Grazie.